Si può spegnere ogni tanto il pensiero Smettere almeno di crederci per davvero E non essere più schiavi per lo meno Di un'idea come di un'altra, di un mistero Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé Ciao amici, vi invito quando volete a casa mia a mangiare il vostro secco Bellissima E ci saremo tutti Il 26 maggio, Rugby Gentleman Ciao amici, vi invito il 26 maggio all'evento Rugby Gentleman A favore dell'Associazione per la Sclerosi Multipla Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare Siamo liberi, liberi, liberi di sognare Siamo liberi, liberi di ricominciare Grazie a tutti